Oggi i pensionati della Cicelle sono in piazza per lottare contro il governo Berlusconi e chiedere un intervento che riservi il fisco e intervenga sul lavoro. Soprattutto i pensionati della Cicelle sono in piazza per lottare insieme ai giovani per garantire ai giovani il lavoro sicuro e certo. Soprattutto i pensionati della Cicelle sono in piazza per lottare insieme ai giovani i fascisti, stopponi e mani. Oggi i pensionati della Cicelle sono in piazza per lottare insieme ai giovani.